Buonasera, benvenuti a 8.30, buonasera, bentornata Nadia Urbinati, politologa della Columbia University a New York, buonasera Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano, buonasera Aldo Cazzullo, vice direttore del Corriere della Sera e conduttore qui sulla 7 di una giornata particolare che riparte stasera, subito dopo di noi, e buonasera, bentornato Mario Secchi, direttore di Libero. Allora sulle tasse, le tasse il governo fa confusione, qualcuno sta mentendo, chi sta mentendo? Subito dopo la pubblicità. Allora Aldo Cazzullo, le parole ormai famosissime che ha detto Giorgetti 6 giorni fa, parlando della manovra finanziaria, ha detto sacrifici per tutti ci saranno nella nuova manovra e questo ha gettato un po' nel panico il governo, comunque forti fibrillazioni sull'aumentazione e soprattutto oggi si è scatenato il dibattito sull'aumento della tassa per la casa. Tanto che Giorgia Meloni è stata costretta a fare un video nel tardo pomeriggio e ha smentito praticamente il suo ministro dell'economia, ha detto Meloni è falso che aumentiamo le tasse, questo lo fa la sinistra, noi le abbassiamo. Tu cosa hai capito? Ho capito che Giorgetti ha detto una parola tabù, una parola vietata, sacrifici, non la si sentiva dai tempi del governo Monti, detto questo noi abbiamo lì nel 2023 abbiamo avuto un rapporto deficit-pill del 7,4%, un arido numero certo, però io mi ricordo fino al Covid vertici europei che duravano giorni per stabilire se si poteva sforare del 2,4 anziché del 2,04 adesso siamo al 7,4, il Covid è finito da 4 anni però e adesso bisogna recuperare, punto. Il nostro deficit, il rapporto deficit-pill è il più alto d'Europa, i secondi sono gli ungheresi del nostro amico Orban, Terfi i romeni, in più noi abbiamo 3 mila miliardi di euro di debito pubblico cui secondo gli analisti se ne aggiungono almeno un altro miliardo di, 3 mila miliardi di euro di debito pubblico che si aggiungono altri mille miliardi di crediti inesigibili quindi sarebbero 4, è ovvio che quindi un ministro dell'economia responsabile dice oh qui bisogna fare un sacrificio, però però lo sacrificio non si può dire. Ma l'opinione pubblica cosa capisce? Perché se il ministro dell'economia dice una cosa, più sacrifici per tutti e la Presidente del Consiglio è costretta a smentirlo perché è attaciuto fino ad oggi. E aumentare le tasse sulla casa da destra non può permettersi di farlo, darebbe proprio meno a un suo dogma. Fosse nella Schlein farei attenzione a parlare di così facilmente di patrimoniale, io conosco lo schema del PD, pagheranno soltanto i ricchi ma i veri ricchi sono già da tempo il Principato di Monaco in Svizzera se non alle Caiman e rischio alla fine che la patrimoniale le paghino i soliti noti, quelli che già contribuiscono all'IRPF, lavoratori dipendenti, pensionati, il PD è l'unico partito del mondo che aumenta le tasse ai suoi elettori, cosa che la Meloni, Mario Secchi, non vuole assolutamente fare. Perché ha esordito nel video Meloni dicendo, leggo dichiarazioni fantasiose, ma le dichiarazioni fantasiose le fa il ministro dell'economia, Giorgetti? Quelle dichiarazioni poi sono state, come sapete, integrate. Giorgetti si riferiva a classi di contribuenti, soprattutto imprese, che nel ciclo economico... No, no, prima dichiarazione l'ha detto per tutti, quindi sia gli individui che le imprese. Poi ha fatto una mezza marcia indietro. L'ha integrata. Il centrodestra, guardate, che il PD possa sperare che il centrodestra aumenti le tasse sulla casa è una fantasia bella per l'ischline ma impossibile. I soldi, Mario Secchi. Perché, diciamo, oggi l'ischline ma anche Conte hanno detto che Meloni mente, dice una bugia. Quella propaganda legittima. E che ha una faccia tosta. Però noi abbiamo già visto due manovre fatte bene. Ma le accise aumentano? No, sì, lo chiamano allineamento, ma è un aumento sul diesel. È una norma europea, bisogna farlo. Bisogna agire sulla cise del carburante diesel che ha una simmetria rispetto a quella della benzina. C'è una differenza di 11 centesimi. E probabilmente, io mi attendo, poi naturalmente leggiamo i documenti come sempre, che sarà aumentata la cise del diesel e sarà abbassata quella della benzina per allinearle sostanzialmente. Questa, tra l'altro, è una norma, diciamo, di giustizia ambientale, così si dice, lavoro dell'Europa, così si dice, i progressisti dovrebbero essere contenti invece di, come dire, osteggiarla, anche perché vanno leggermente in contraddizione rispetto ai totem della loro ideologia politica. Questo è uno. Quindi questo argomento che ho visto che il segretario Schlein ha tirato fuori è scarico. una pistola d'acqua, francamente. Sulla casa, secondo me, non ci saranno sorprese. C'è una norma già esistente, quindi anche questa non è una nuova tassa, non c'è niente, c'è una norma già esistente che riguarda chi ha ristrutturato con il super bonus. No, 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 ma anche noi, scusa, mi ti interrompo solo un secondo, perché allora non si capisce perché tutta questa fibrillazione nel governo, perché si allega che Forza Italia stanno, diciamo, sbraitando da qualche giorno. Perché è giusto non offrire messaggi che possano far pensare a un cambiamento della politica economica, di alcuni principi e capissari della politica economica nel centro-destra. Non si tasseranno i cespiti immobiliari, guardate. No, 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 ma io ti credo sulla parola. Mi chiedo solo, Andrea Scanzi, da dove Giorgetti, che è un ministro dell'economia responsabile, prenderà i soldi, perché comunque li deve trovare, 13 miliardi almeno. Tanto il Pil va bene. E scusami, adesso anche la destra che è al governo dice che ce lo chiede l'Europa. Quindi alle brutte è colpa dell'Europa. Allora, io partirei quantomeno dal video che c'è stato oggi da parte della Meloni. Cerchiamo di stare sul pezzo. Intanto è forse la prima volta da quando è presidente del Consiglio che la Meloni, di solito bravissima a dettare l'agenda, insegue l'agenda e si sente costretta a rabberciare un video di 40 secondi, smettendo di fatto non i giornalisti, ma il suo ministro dell'economia, perché questo è successo. In quei 40 secondi o giù di lì la Meloni ha tratteggiato un mondo meraviglioso dove, grazie a questo governo, stanno bene tutti, le mammi, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i lavoratori autonomi, le partite IVA, la realtà è appena appena diversa. Vorrei ricordare, anche se è impopolare la destra, so che non ci sente da questo orecchio, che quando si devono recuperare i soldi, se non si vogliono aumentare le tasse e le aumenteranno, l'alternativa sono i tagli. E è tutto da vedere che sia più bello per la collettività incidere sui tagli che non sulle tasse, perché una patrimoniale fatta bene inciderebbe nella collettività enormemente meno negativamente rispetto ai tagli, al comune, alla regione, alla provincia, che sono già la canna del gas. A tutto questo, certo, ribadisco, la patrimoniale sarebbe mille volte più giusta di tante norme che sta facendo Giorgetti. Lo so, è bene che tu non sia d'accordo, sai che mi fa piacere e non è la prima volta. Aggiungo un'altra cosa su cui tu hai... Io figuro. Sì, gli elettori della destra, anche perché i ricchi votano la destra, quindi ci sta. C'è un piccolo particolare, no, non tutti, i ricchi parecchi la votano, c'è un piccolo particolare su cui hai sorvolato, stranamente Mario. Quel video tradisce una fibrillazione politica evidente in seno alla maggioranza. Non vuol dire che sto governo cade domani, per me il governo dura fino a 2027, ma se ogni giorno questi litigano, una volta viene fuori la chat e sono infami, una volta prendi in giro Salvini per la storia del chiodo, un'altra volta vuoi fare la spallata per fare leggere il membro, la consulta, che ti sta tanto a cuore, cioè Marini, non ti riesce. Presidente della RAI, non ti riesce. Ora litiga con Giorgetti, ci sarà qualche problema dentro la maggioranza o è un complotto ordito? Adesso poi lo approfondiamo rapido Secchi e poi la professoressa Ubinati. No, io sempre così, par costruence in questo caso. Io sconsiglio alla sinistra di usare parole come patrimoniale, europatrimoniale, che noi abbiamo ribattezzato neuropatrimoniale. Io uso anche extra profitti, se vuoi non mi sento in coda. Non esistono gli extra profitti in economia, esistono i profitti. Se ne uso tanto. Esistono i profitti. Ma sai perché lo dico? Scusa, no, no, ma la sinistra ha già i suoi problemi senza avere anche consigli. Sì, no, ma io lo dico perché tutto questo altera completamente il gioco. Mario Secchi, ma esistono queste fibrillazioni nella maggioranza della Meloni o no? Ah, guarda, ti posso dire questo. Il governo è certamente in una fase di scenario complessivo molto intensa. È anche difficile sotto molti aspetti. Io vorrei ricordare, ma non per il governo in sé, per quello che c'è tutto intorno, lo scenario europeo e lo scenario internazionale. Cioè noi non dobbiamo dimenticare che abbiamo... Quindi non ci sono... No, no, domanda... Nella maggioranza in quanto tale, cioè che tu dici, Giorgetti... Non ci sono fibrillazioni, sono normale dialettica. C'è la normale dialettica, oggi litigano su una cosa, ma in realtà non è una lite vera, dai. Non è una lite vera, Nadia Urbinati. Ci sono due i temi per le destre, anche quella di Trump in America, l'immigrazione e le tasse. Trump ha già detto e continua a ripetere che le abbasserà, eccetera, eccetera. Ma se la realtà smentisce le promesse fatte, cosa succede? Allora, vi faccio dire intanto una cosa. C'è negli Stati Uniti un'associazione, un gruppo di veri grandi ricchi che si chiamano Patriotic Millionaires. Sono grossi signori, grossi nel senso di grossi portafogli, che si rendono conto che le disuguaglianze estreme e il fatto che loro paghino veramente meno tasse, il 17% rispetto agli altri, cioè quasi nulla, sia un male per l'intero sistema. Avere salari bassi è un male perché non aumenta, non fa girare, diciamo così, il commercio e l'economia, eccetera. Se guardiamo l'Italia, non c'è bisogno di, diciamo, ventilarle di tanto la patrimoniale. Basterebbe leggere l'articolo 53 della Costituzione. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, quindi progressività. Invece noi abbiamo da un lato una leader che si, come anche negli Stati Uniti, si invoca sempre la nazione, il ceto medio, le donne, i lavoratori, però dall'altro fa politiche che sono nei loro confronti, politiche finanziarie, non sempre molto, diciamo così, utili o comunque dalla loro parte. Mentre invece si strizza l'occhio a Monsk, cioè i grandi ricchi. Allora bisogna essere chiari qui, se si vuole essere patrioti e stare con la nazione bisogna fare un discorso che sia in linea con l'articolo 53 della Costituzione, se no si inganna la gente. Hanno fatto il conno fiscale. Aldo Cazzullo, no, ma il problema probabilmente è ancora più grande nel nostro paese, che c'è un'evasione fiscale di 90 miliardi l'anno e questo governo è già, non so, al ventesimo mini condono fiscale, quindi diciamo non si capisce bene. Le tasse non devono essere aumentate, però gli evasori non devono essere scovati, anzi, allora veramente qualcuno ci spiegherà prima o poi dove andremo a parare. Anche tu pensi che non ci siano fibrillazioni nel governo? Cioè tutto è normale che ci sia... Beh direi proprio di no. A Pontida Salvini ha portato personaggi che fino all'altro ieri erano alleati di Giorgio Meloni. Victor Orban ha sfilato alla Meloni Santiago Bascale, il capo di Vox, a suoni di soldi, e si è presentato a Pontida. Tra l'altro lasciami dire che a me piacerebbe molto che Salvini si occupasse anche un po' dei trasporti, perché siccome è il ministro dei trasporti, gli italiani stanno soffrendo moltissimo. Dopo un'estate dura arriva un'autunno che è anche peggio per tutti, i pendolari, i viaggiatori del frecce rossa, quelli che prendono la metro, quelli che non trovano il taxi. Salvini è il peggior ministro dei trasporti dai tempi dell'invenzione della ruota. Se si occupasse un po' di più di quel suo mestiere che non di andare sul prato di Pontida a fare collezioni di mostri, secondo me sarebbe anche del suo interesse. Ciò premesso, è chiaro che Salvini ha scelto di smarcarsi dalla Meloni, diciamo da destra, e quindi Wilders, quindi Marine Le Pen, e quindi forse lui mi sarebbe messo al centro, però al centro c'è Forza Italia. Molti leghisti non lo capiscono, i leghisti del nord, quelli che amministrano, non è che siano estremisti di destra come Salvini. Il italiano è stato definito scafista dai giovani della Lega, qualche frabellazione c'è insomma, perché ha fatto una proposta che ha chiamato Ius Itali di dare la cittadinanza ai ragazzi nati in Italia che hanno studiato 10 anni, quindi 16 anni, fine della scuola dell'opera. Insomma, dai, che amare lo scafista per una norma di civiltà, il minimo indispensabile che lui propone, mi sembra un po' così. No, io penso che la Meloni governerà altri 40 anni, ma scusami Mario, siccome siamo... No, 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 voglio solo dire una cosa, Mario, voglio solo dire una cosa, che se le divisioni del centro-sinistra vengono, anche qui praticamente tutte le sere rimarcate, non è che quando riguardano il centro-sinistra sono divisioni irrecuperabili e quando invece ci sono divisioni nella maggioranza, no, ma sono d'accordo con te. Quindi insomma, non vogliamo però adesso, perché insomma intanto il governo c'è, la Meloni ha fatto un video che avrà rassicurato sicuramente gli italiani sulle tasse e vedremo come andrà avanti. Io starei, ti dico, ribaltiamo, se io fossi stato all'opposizione, un leader dell'opposizione che deve fare la battaglia sui conti, prima di tutto aspetterei giusto un attimo di vedere il testo. Noi il testo non l'abbiamo visto. Sì, sì, ma noi ci... scusami, anche qua, noi ci rifacciamo a quello che ha detto e ha dichiarato ufficialmente, on the record, il ministro dell'economia di Oggetti, se no sembra che noi siamo fantasiosi. È una cosa che non aiuterà il centrosinistra, diciamo, a passare il guado e a ritrovare l'unità. Né, d'altronde posso dire, né aiuta il centrodestra a commentare un testo che ancora non c'è, c'è una discussione in corso e così via. Quindi bisogna sempre vedere che cosa poi... Ma non è solo questo, Mario, scusa, perché ieri la fallita spallata alla Corte Costituzionale, oggi il problema grosso in Commissione Vigilanza, RAI, sono tante le cose che si accumulano. Sì, sono tutte cose che però non incidono sul gradimento del governo per uno semplice motivo, non sono le cose che guarda l'elettore, soprattutto l'elettore di riferimento, diciamo, al blocco di centrodestra, che è un blocco che ci sta da 30 anni, è sperimentato, può piacere o meno, ma è così. E una cosa l'ha certamente imparata, lo diceva anche Aldo all'inizio, e cioè che la casa non si tocca. Quindi questo è un elemento che dovete spostare dal dibattito. L'altra cosa interessante, che non viene colta dalle opposizioni, perché si guarda sempre all'elettorato di destra con un certo pregiudizio, è che quell'elettorato, alla fine, a quella coalizione, cosa chiede? Chiede questo, sì, potete anche litigare ogni tanto, cosa che avviene, che vediamo, che registriamo tutti e così via, ma alla fine voi dovete stare insieme e ci dovete dare esattamente quelle due o tre cose che ci hanno consentito comunque, diciamo, di rappresentare le nostre, di vedere rappresentate le nostre istanze. Quindi la sfida di Meloni, non per oggi, ma per i prossimi tre anni, è quella di fare una buona manovra, ed è la prima vera manovra che questa maggioranza farà, che soddisfi, diciamo, alcune aspettative per i prossimi tre anni, cioè fino alla fine della legislatura. Buona occupazione, migliore potere d'acquisto, cuneo fiscale confermato, niente tasse sull'immobili, politica di bilancio prudente, cioè non voglio sorprese con i mercati, non voglio ritrovarmi i tassi di interesse di nuovo e le fattie così via. Il mutuo della casa che sto pagando deve essere dal volto umano. Tutto verissimo forse, ma dovremmo vedere, perché intanto la crescita. Da questo allora sono uguale. Insomma, Banca Italia si è molto allarmata anch'essa. Anche questa. Ah no, Banca Italia adesso è un'istituzione di sinistra. No, 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 ma solo per capire. Scanzi, tutto bene? Poi voglio sentire dalla professoressa una cosa sull'elettorato di estra. Intanto mi fa sorridere che Mario stasera sia in versione spin doctor del centrosinistra. Come hai detto tu, diciamo che la sinistra ha già abbastanza problemi, come consigliere ne prenderei altri. Poi tu giustamente ti rilacqua il tumulino. Però io sono d'accordo su una cosa che ha detto Secchi, cioè i casi di cui stiamo giustamente parlando. Aspetta, aspetta, adesso arrivo al dunque. La vicenda Rai, la vicenda Consulta non spostano voti su questo. Dopodiché tu però hai raccontato un mondo perfetto dove tutto funziona, dimenticandoti per esempio che con questo governo, con questa manovra e con il resto, per esempio i pensionati vanno in pensione molto peggio, molto più tardi, i pensionati votano o hanno votato Rameloni, i lavoratori dipendenti stanno e staranno peggio, hanno votato Rameloni, quindi tu fai bene a dire quanto è bella sta manovra che non hai ancora letto ma già sai che sarà bella, ho detto che l'aspetto. Noi non possiamo commentare, l'aspetto ma hai già intuito in qualche modo hai avuto una sorta di flash forward, hai già visto che è bellissima e ne prendo atto, però è lì che secondo me perderà consensi Rameloni perché ha promesso Mari Monti e al suo elettorato non sta portando neanche un fiumiciatolo e questo è il punto. Poi lascia stare che il centrosinistra ha i problemi, che ha bisogno di grandi consiglieri, però dire che il centrodestra è così bravo, perfetto e va tutto bene mi sembra una versione appena geografica ed edulcorata della realtà. Professoressa Urbinati, è vero quello che ha detto prima Mario Secchi che l'elettorato di centrosinistra guarda sempre con un certo pregiudizio quello di destra? Destra e sinistra si guardano reciprocamente con pregiudizio perché sono parte del gioco, non mi scandalizzo questo, mi scandalizzo quando la destra è al governo e quindi forte perché sta al governo e beh si adonta e si arrabbia perché c'è un'opposizione che è la critica e quindi assente il bisogno addirittura di anticipare le possibili critiche che vengono con questi interventi del Presidente del Consiglio che mi sembra veramente fuori dal mondo. È ovvio che ci sia un'opposizione ed è ovvio, è necessario che faccia bene il suo lavoro, che vada alla ricerca delle informazioni che deve avere, che sia capace di incalzare. Questo è, non ci sono nemici e non ci sono nemmeno vendette. Mi sembra che sia una regola democratica fondamentale. Nessuno ha la bacchetta magica e non c'è nemmeno il capo cadornista che sta lì e dà ordine. Non è questa la democrazia. Capo cadornista, poi spiegheremo domani cosa significa. Ha fatto una bellissima intervista, lei oggi su Repubblica. No, voglio farvi vedere adesso un video dell'Europarlamento di oggi. Sapete che è successo un po' un grosso, grave incidente perché Orban, che è il Presidente ungherese ma è anche Presidente di turno dell'Unione Europea, ha detto delle cose terribili sull'Unione Europea, scatenando anche le ire di Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione e anche di molti deputati che a un certo punto hanno cantato Bella Ciao. Guardate un attimo. This is not the Eurovision, eh? Ecco, la Presidente del Parlamento Mezzola che ha detto che non siamo l'Eurovisione, non è la casa di carta, eccetera, eccetera. Giorgio Meloni ha anche ribadito recentemente la sua amicizia con Orban, che lo ricordiamo è parte del Presidente, credo forse anche del gruppo dei Patrioti in Europa, di cui fa parte tra gli altri anche Salvini con la sua Lega. Orban, lo ricordavi tu prima, era domenica sul pratone dei leghisti di Pontida. Ora, Giorgio Meloni può stare contemporaneamente con Orban e con Ursula von der Leyen? Io credo di no, anche perché lo spazio politico tra Orban, che abbiamo visto in azione oggi, e la von der Leyen, a cui si aggiungerà presto MERS, che sarà tra un anno cancelliere tedesco, quindi rivince la CDU, cristiano-democratici, ma non è più la CDU della Merkel, non è più di destra, più sovranista. Lì in mezzo, secondo me non c'è uno spazio, l'unico discrimine che distingue la Meloni, possiamo chiamarli mostri, o le offendiamo, insomma dai Patrioti, loro si definiscono Patrioti, e l'Ucraina. Cioè i Patrioti sono apertamente filo russi, filo Putin, la Meloni no, ha tenuto la barra dritta, in chiave filo atlantica, filo americana. Quello è il vero discrimine. Io spero che questa guerra in Ucraina finirà prima o poi. Ecco, lì lo spazio politico secondo me non c'è, dovrà scegliere tra la CDU, tra il Partito Popolare Europeo e i Patrioti. Tra l'altro è vero quello che sentivo dire, queste cose la consulta, la RAI non spostano voti, ma il nostro sistema prevede che ci siano delle cariche di garanzia, o comunque per il quale occorre un consenso più vasto della maggioranza. Per confermare il Presidente della RAI servono i due terzi dei membri della Commissione di Vigilanza, al Governo mancano due voti. Per il giudice ci vogliono i tre quinti dell'Assemblea. E questo governo ha parlato di una visione e concezione proprietaria. Su questo punto ha ragione, anche se, concludo, è vero che San Giuliano ci ha allietato l'estate, però in realtà in quest'estate la Meloni si è rafforzata per un semplice motivo. I suoi due principali avversari, il Presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz, che ha rischiato di fare la fine di San Giuliano, pure lui di doversi dimettere, si sono molto indeboliti e in questo momento l'ultima cosa di cui hanno la forza e il tempo di fare è andare contro la Meloni. Aspetta Mario, voglio aggiungere anche una domanda, ti do subito la parola, e ho detto un'inesattezza poco fa, non è Orbán il Presidente del gruppo dei Patrioti in Parlamento a Bruxelles, ma Bardellà, che sta con Marine Le Pen. Aggiungo questo, perché questa cosa di Orbán perché colpisce? Che dice tutto il male possibile di questa Europa, infatti ha detto anche oggi in Europa lui ci sta non per quello che è, ma per quello che potrebbe essere. Intanto però l'Europa che è, è quella che elargisce dal 2004, quindi da 20 anni agli ungheresi, tanti tanti soldi, quindi oltre 4 miliardi di euro all'anno, da 20 anni. No, ma voglio dire, questa è l'Europa che è oggi, quella dei sovranisti non sarebbe così generosa, e quindi c'è una grande ipocrisia su questo punto, no? Dei sovranisti. Allora, qua ci sono vari modelli, ovviamente come sapete tutti, diciamo di Europa. C'è un'Europa che deve delegare le sue grandi funzioni, lo Stato deve delegare molti poteri all'Unione Europea e c'è invece che è una visione, diciamo, più restrittiva, cioè all'Europa vanno date alcune competenze... Sì, ma quello che voglio dire, Mario Secchi, che quella più restrittiva di Orbán, di Salvini, di tutti questi sovranisti e anche di una parte di Fratelli d'Italia, no? È l'Europa che non sarebbe così generosa e non sarà così generosa con l'Italia sulla questione dei conti pubblici. Noi questo non lo sappiamo perché non l'abbiamo visto, ovviamente. Io penso che, diciamo, per rispondere ai tuoi interrogativi, uno è il collocamento di Meloni che tu dicevi, no? Ma come può? In realtà il collocamento di Meloni è una grande opzione, una grande opportunità perché fa quello che in politica anglosassone si dice, the bridge, il ponte, cioè lei è un... Un po' di qua, un po' di là. The bridge sarebbe una funzione ponte che però è un po' due piedi in due state. No, attenzione, devi pensare non a quello che fa Meloni ma a quello che ha pensato von der Leyen quando ha dato la vicepresidenza esecutiva a Raffaele Fitto. Una delle sei. Ha pensato giustamente che questa sarà una legislatura molto difficile per la Commissione e per la maggioranza del Parlamento europeo. I gruppi si spaccheranno spesso al loro interno su questioni fondamentali. Certo, ci saranno maggioranze variabili. E ci saranno maggioranze variabili. Ecco perché Meloni è preziosa, perché è capace di avere un rapporto con i patrioti e dall'altra parte di avere un rapporto, molto stretto ormai si capisce, con Weber e i popolari europei e i tedeschi. Questa cosa qua, che cosa vuol dire però? Che, attenzione, non sottovalutate la furbizia di Orban che dice molte cose dalla tribuna ma ne fa altre non appena scende dalla tribuna. L'Ungheria è un paese cacciavite della Germania. Non dobbiamo mai dimenticare i rapporti stretti che ci sono tra Berlino e Budapest, stabilimenti automobilistici e così via. C'è un tentativo tra l'altro dei cinesi di entrare in Ungheria. E quindi Orban sarà molto più mobile di quello che si immagina. Gli hanno già fatto entrare gli ungheresi e i cinesi, hanno già segnato accordi. E' un altro punto complicato con von der Leyen, la Commissione europea e anche gli americani. Non guardiamo questa legislatura come un monolite. No, 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 ma non è mai no. Le maggioranze variabili ci sono sempre state e ci saranno probabilmente di più in questa legislatura. Professora Urbinati, furbizia più furbizia, chi è il più furbo qua in questa Europa e l'Italia come può gestire questa situazione al meglio? A me sembra che l'Europa, in questo senso Draghi ha ragione, è in una fase, in un momento molto delicato perché ci sono due visioni di Europa in questo momento molto ben definite e che possono entrare in rotta di collisione anche a relazioni alle guerre e agli problemi economici che con esse sono collegati. Un'Europa che vuole più unione e quindi anche per esempio parlare di unione fiscale o di unione monetaria più forte una parte d'Europa, non tutta, per esempio l'Ungheria non è nell'eurozona ancora. Ecco, è un'Europa invece che è più nazionalista o più sovranista con grandissimo problema perché il futuro non è il futuro dei sovranisti. Con questa globalizzazione e il mercato globale, anzi il capitale globale con tantissimo potere c'è bisogno di coordinare, di tenere più uniti gli stati e gli sovranisti. Vedremo. Il sovranismo è veramente contrario, è anticronologico. Vedremo anche, dipende da chi verrà eletto negli Stati Uniti. Aldo Cazzullo, allora intanto ricordo che è appena uscito il tuo nuovo libro con HarperCollins Il Dio dei nostri padri, sottotitolo Il grande romanzo della Bibbia che già ha in testa la classifica complimenti. E stasera riparte qui sulla 7 il tuo Una giornata particolare. E ricominci da Hitler e Mussolini, perché? La visita di Hitler e Mussolini ha ispirato una giornata particolare, bellissimo film di scuola. Insomma bisogna sempre ricordare quello che è successo in passato. Quel giorno nasce l'asse Roma-Berlino, quel giorno comincia a mettere radice la seconda guerra mondiale. Hitler fu portato in posti bellissimi dove siamo tornati, con i droni, con le telecamere, il Pantheon, la Galleria Borghese e poi il Foro Italico dove c'è l'obelisco Mussolini-Dux che con l'intelligenza artificiale trasforeremo il nome Mussolini, lo trasforeremo nel nome Matteotti. Un monumento non al Duce ma alle sue vittime, a cominciare dalla principale delle sue vittime. Quindi subito dopo di noi, ma adesso ve lo riricordo, intanto però vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro che ci porta in Iran. Israele, sapete, sta pianificando un attacco alla Repubblica Islamica e è uscito poco fa anche la notizia che la telefonata di Netanyahu e Biden, presente anche Kamala Harris, è stata onesta, produttiva, ma è classificata. Ora non sappiamo, quando si dice onesto è come la discussione franca, in genere vuol dire che si sono azzuffati. Comunque tant'è, l'Iran sarà sicuramente nel mirino. Dove sconta una condanna a 12 anni e 11 mesi più un numero imprecisato di frustate. Grazie all'aiuto delle compagne con cui condivide la cella, Mohammadi ha potuto rispondere alle domande che le ha inviato la giornalista Greta Previtera per un'intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera. Alla vigilia di un possibile attacco israeliano all'Iran, il premio Nobel dice di non credere che la guerra possa essere un modo veloce per far cadere il regime degli Ayatollah. Pensa invece che la rivoluzione debba passare dal popolo e che la cosa potrà accadere perché la Repubblica Islamica non rappresenta la società iraniana di oggi a nessun livello, nemmeno quello religioso. La resistenza delle donne iraniane si aiuta anche leggendo ciò che ci mandano a dire. Va segnalata la prima traduzione italiana delle poesie di Tahereh, passionaria e mistica del XIX secolo, sostenitrice del babismo, un movimento che predica la riforma spirituale e sociale dell'Islam, condanna l'alleanza secolare tra la spada e il turbante, chiede che siano rispettati i diritti delle donne, dei bambini e dei non musulmani. Tahereh fu imprigionata e trucidata a Teheran. Le sue poesie sono raccolte in un volumetto intitolato Il tesoro nascosto. La comunità Bahai pubblica invece poesie dalla prigione di Mahvash Sabet, un'altra intellettuale iraniana incarcerata ma libera. Siamo in chiusura, grazie professoressa Urbinati, grazie Andrea Scanzi, grazie Mario Secchi, grazie Aldo Cazzullo. Allora ricordo il tuo nuovo libro, Il dio dei nostri padri, pubblicato con Harper Collins. Ricordo che adesso, subito dopo di noi, ricomincia la tua giornata particolare e che ricomincia da Hitler e Mussolini e vi volevo dire che Netanyahu ha convocato per domani un gabinetto di sicurezza per decidere nei dettagli la risposta da dare all'Iran. Tutto, Cazzullo e noi come sempre domani, otto e mezzo.